benvenuti ad orrore dal web la serie che ti mostra tutti i filmati più spaventosi disturbanti e paranormali trovati in rete buona visione questa montagna si trova in giappone e si chiama bentayama ci sono molti edifici abbandonati in questo posto e si dice che in queste strutture puoi scattare foto di fantasmi il posto adesso è una ben tenuta destinazione turistica e si narra anche che fantasmi femminili appaiano di notte questo video è stato ripreso da una persona venuta in cerca di fantasmi durante le riprese dice di non aver notato nulla di particolare li ha trovati mentre controllava il registrato ecco il filmato notate bene quanti ne ha trovati grazie a tutti 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 tic toc di una escape room ci presenta due inquietanti video nella descrizione ci dicono che uno dei loro dipendenti è arrivato in anticipo per il suo turno e mentre preparava l'edificio per le prenotazioni del giorno ha sentito un forte sbattere provenire dalla hall centrale come l'era stato detto ha immediatamente tirato fuori il telefono per documentare l'accaduto quello che stai guardando è quello che ha catturato è quello che si avvicina alla porta dell'area operativa puoi vedere la porta che viene sbattuta sbattuta più e più volte è tornata a casa poco dopo e qualcuno ha dovuto coprire il suo turno nel video successivo mentre la loro dipendente ha notato che ha notato che alcune sedia e la sala è corsa sopra e ha iniziato a registrare per vedere se poteva catturarlo con la sua stessa fotocamera questi sono gli eventi che sono seguiti sembra che ciò che le perseguiti sia sempre più arrabbiato tu che ne pensi questo video è decisamente terrorizzante la tiktoker savannah vibes ci mostra la figlia mentre gioca tranquillamente con un pupazzo di peluche osservando bene alla fine del video si vede bene in peluche fare un movimento con la testa del tutto inquietante dopo aver visto il video mi sembra normale che la mamma sia decisamente terrorizzata questo pauroso video è stato ripreso di notte in un parco un uomo sta osservando un'altalena oscillare da sola mentre un altro si avvicina per riprendere il tutto le riprese del secondo uomo mostrano l'altalena muoversi ma del primo uomo nessuna traccia osserva bene e dimmi cosa ne pensi nei commenti ma alla domani ma 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 Quello che la squadra dei Cacadores da Sombra scopre durante una investigazione in un luogo rituale è davvero sconcertante. Quando si avvicinano al sito scoprono quello che sembra essere un corpo che levita su un pozzo del fuoco. Osserva attentamente. Caldera caldera caldera! Sai 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 mano. Carabina! Ma che è questo? Ti ho lento, ti ho volto. Caldera caldera caldera! Grazie per la visione!